e di nuovo ben trovati a coloro che ci seguono in diretta su facebook in radiovisione e l'ultima parte di queste quattro ore insieme ed è davvero un piacere avere accanto a me la dottoressa marzia salgarello medico chirurgo chirurgo plastico ricostruttivo per la precisione della fondazione policlinico universitario agostino gemelli dottoressa grazie per essere con noi grazie dell'invito lei anche presidente di bbc e con lei vogliamo parlare innanzitutto di questo bradei che si celebra il 16 ottobre ma c'è un appuntamento importante già alla vigilia dove e perché è importante allora intanto cos'è il bradei la giornata breast reconstruction awareness day giornata della ricostruzione mammaria in tutto il mondo tutti i chirurghi plastici che fanno ricostruzione di mammella il 16 ottobre si fermano parlano con le loro pazienti fanno degli eventi speciali per divulgare l'importanza della ricostruzione ricordiamo che nei paesi più evoluti come il nostro appena la metà delle donne si ricostruiscono se vogliamo vedere il micchiere mezzo pieno beh metà delle donne si ricostruiscono però è importante che tutte le donne lo sappiano e quando ci si ricostruisce secondo me quando ci si rivolge a una breast unit cioè la cura del tumore al seno e viene meglio se viene fatta nei posti dedicati dove ci sono delle multidisciplinarietà c'è il senologo ma c'è anche il chirurgo plastico ma c'è l'anatomopatologo ma c'è anche lo psiconcologo ma ci sono il radioterapista tutte le professionalità che si occupano del tumore al seno in queste breast unit le nostre percentuali di ricostruzione salgono tantissimo detto questo quindi dobbiamo informare le pazienti che c'è la necessità di saperla questa cosa per poterla scegliere e allora la giornata della ricostruzione è una giornata informativa quest'anno il 16 ottobre in tutto il mondo noi anticipiamo con un pre-evento il pomeriggio del 15 all'hotel grand hotel prazza grazie alla generosità della proprietaria che ci ha offerto di ospitare il nostro evento e lì cosa ci sarà ci saranno le donne che parlano un piccolo talk show le donne che parlano di come hanno vissuto la malattia come le hanno superata le difficoltà ma anche i compagni perché la coppia è molto importante ed è molto fragile in queste occasioni e probabilmente è nella coppia che la donna riesce a trovare un punto di forza oppure perde qualcosa andremo subito a parlare del partner di quanto sia importante il dialogo io vi invito a scriverci su facebook già alcuni lo fanno jo ha scritto e poi inda ci ringrazia per affrontare questo tema però vorrei prima di arrivare appunto all'importanza della ricostruzione il tema del resto di quest'anno è ricostruirsi dialogo con le donne i loro compagni vorrei chiedergli in quale caso si può effettuare una ricostruzione con protesi perché l'informazione corretta parte proprio dalla casistica cioè quando è possibile quando no perché dinanzi lo diciamo prima microfoni spenti dottoressa dinanzi a un dramma è inutile edulcorare inutile dire che va tutto bene o che tutto andrà bene però poi si devono fare le cose bene si deve conoscere l'argomento partendo da quando è possibile e quando no proviamo a dirlo bene la ricostruzione è oggi la ricostruzione immediata cioè viene fatta subito finisce il senolo voleva il seno ma subito il chirurgo plastico mette la protesi la protesi o i propri tessuti sono due le modalità ricostruttive più frequentemente la protesi perché è una ricostruzione più semplice ma chi non la può fare diciamo un 10 per cento dei casi va per l'utilizzo dei propri tessuti soprattutto i tessuti addominali e quindi una specie di autotrapianto io ricostruisco con la pancia miglioro anche la forma della mia pancia però questo si riserva nei casi che hanno fatto radioterapia casi un po particolari invece la protesi è una ricostruzione facile specie perché ad oggi la protesi si mette davanti al muscolo quindi una ricostruzione poco impegnativa di poco tempo e di risultato naturale tutto questa facilità della chirurgia ha facilitato l'accesso quindi tutte le donne ci possono arrivare e si rivolgono alle breast unit esatto perché è facile ma ad esempio il gemelli sostiene questo costo assolutamente altre strutture lo diciamo a chi all'ascolto noi magari può capitare che dopo essere state sotto i ferri aver vissuto il dramma della diagnosi aver superato l'intervento si va a casa e si dice io non voglio tornare in ospedale in quei casi a chi bisogna rivolgersi e la paura che poi abbia voglia di abbandonare e quindi abbandona anche una parte di sé perdona una parte della sua femminità forse della sua vita diciamo sociale oltre che la propria mentale quindi bisogna assolutamente pensare che la ricostruzione immediata va risolta subito va scelta e poi per chi non ce la fa o che non la può fare sono pochissimi casi si può fare anche dopo si chiama ricostruzione di ferita ci si rivolge ai grandi centri di chirurgia plastica del territorio nazionale facciamo tutti la ricostruzione anche in un secondo momento e si chiama di ferita qui a radio vaticana con voi ci piace accogliere in studio medici donne uomini di scienza perché uno dei tentativi è sì è divulgativo quindi spiegare bene le cose ma anche combattere le fake news allora dottoressa chi dice ma le protesi non sono sicure ma poi le devo controllare ogni mese vogliamo parlare della sicurezza dei controlli in maniera però reale non per sentito dire certo allora le protesi sono un manufatto che viene dall'industria sono un corpo estraneo per l'organismo per quello io dicevo prima ci sono anche i propri tessuti che chiaramente una volta trasferiti con l'autotrapianto invecchieranno con la paziente la protesi invecchia con un po più di difficoltà insieme con la paziente rimane sempre qualcosa di un pochino più fermo però questa protesi davanti al muscolo è molto più facile che abbia una decorso simile ai propri tessuti proprio perché una posizione più fisiologica cosa si fa poi ogni anno si fa un'ecografia per controllare lo stato della protesi proprio perché un manufatto dell'industria non sarà e non biologico non sarà per tutta la vita ma anche se fosse 10 20 anni va bene la cambieremo e soprattutto la controlliamo ogni anno le portatrici di protesi fanno anche il follow up oncologico quindi comunque fanno un'ecografia all'anno per studiare per il follow up ricordiamo cos'è un follow up scusate il follow up è proprio lo studio nel tempo di quella che è la conseguenza della malattia e che la malattia non si ripresenti per cui bisogna fare tutta una serie di accertamenti per continuare a studiare le pazienti negli anni anche una volta all'anno e una di queste è l'ecografia mammaria l'ecografia mammaria è l'esame migliore per studiare lo stato della protesi quindi sono pazienti super sorvegliate dottoressa lei ci sta portando tra l'altro saluto ancora anna maria alberto che ci scrivono e poi simone ancora su whatsapp arriva un messaggio da antonia ciao antonia che scrive ho subito questo intervento mi sono sentita subito sola e smarrita poi nel tempo sono arrivata ad una consapevolezza il t9 ti ha scritto male la parola consapevolezza ecco la dimensione del tempo non è tutto subito non è detto che io abbia le tempistiche di una mia amica nel uscire da uno uno shock è giusto che sia soggettiva la tempistica di risposta è giustissimo ed è anche giusto accompagnarla in questo perché è molto difficile uscire da una loop negativa come è l'affrontare un tumore per qualsiasi sede del tumore per qualsiasi persona e proprio per questo l'evento di quest'anno ricostruirsi vuole presentare attraverso due piccoli tol show con prima le signore prima le pazienti e poi i compagni delle pazienti quindi è che studiare la vita di coppia come cambia come può essere d'aiuto tutto questo studiare questo come ricostruirsi fa parte del mission della nostra onlus che si chiama appunto b abc cioè beautiful after breast cancer che ogni anno dedica un progetto di punta un progetto che si chiama donna per donne sono tutte chirurghe plastiche e senologhe un centinaio che insieme si riuniscono e cercano di mettere sulla carta quali sono le domande che ricevono per aiutare le pazienti quest'anno il nostro opuscolo che si chiama la nuova me e che sarà distribuito in tutti gli ambulatori di senologia di chirurgia plastica dice proprio questo raccoglie le domande di chi torna a casa e ora che faccio mi posso lavare come come mi posso muovere posso mettere il reggiseno qual è il reggiseno che faccio con mio marito l'igiene intima ecco tutte queste cose saranno affrontate ci hanno aiutato i fisioterapisti le psiconcologhe le sessuologhe tanti aiuti da tanti medici che si sono voluti unire a noi donna per donna è davvero un progetto secondo noi importante soprattutto quest'anno in cui è ancora più pratico e noi ringraziamo per questa praticità che attiene alla divulgazione appunto scientifica in queste quattro ore ogni mattina dottoressa lo sa chi ci segue noi diamo anche delle notizie che non vorremmo dare dobbiamo parlare di conflitti armati di guerre di ciò che non va dovrebbe andare in maniera diversa lei però ci sta mostrando viceversa una strada che mi sembra vede una serie di progressi compiuti di recente possiamo dirlo che la ricerca funziona che la medicina merita degli incentivi maggiori che le risorse spese sono ben spese che il sistema sanitario funziona che ci sono delle breast unit in tutto il territorio nazionale che davvero funzionano che cercano di umanizzare la medicina perché non siano solo numeri ma anche assistenza vera tutto questo è quotidiano per noi perlomeno al Policlinico Gemelli ma io ho colleghe da tutto il territorio nazionale che hanno la stessa dedizione e mi raccontano le stesse storie di aiuto di passione di stare dalla parte delle pazienti credo che questo sia il messaggio il sistema sanitario nazionale ma soprattutto i medici sono dalla parte dei pazienti e questo diciamo la dice lunga su quello che sta accadendo anche su altri fronti nei confronti dei medici in questa difficile fase del nostro sistema sanitario nazionale assolutamente venendo in chiusura dottoressa a quello che è l'evento lo ricordiamo il 15 di ottobre all'hotel plaza questa giornata questo evento per promuovere la giornata del giorno dopo questo bradei il tema ricostruirsi dialogo con le donne e i loro compagni allora le chiedo da persona che ha ascoltato quello che ha detto ma è molto anche stupita nel vedere quanto conti poi l'aspetto relazionale con l'altro no a volte immaginiamo il paziente il medico una sorta di incontro face to face che finisce lì invece voi dite no attenzione la paziente torna a casa e ha un partner e con quella persona dovrà relazionarsi allora è ipotizzabile anche un percorso di terapia di coppia dopo un intervento simile oppure no perché no sarebbe sarebbe auspicabile probabilmente la potremo dopo l'evento perché noi siamo anche noi curiosi di sapere cosa verrà fuori da questi piccoli talk show in cui cerchiamo di capire veramente dalla voce delle persone di che cosa hanno bisogno qualche cosa qualche risposta più fattiva che ad esempio le psico-oncolle che si potrebbero impegnare nell'organizzare delle terapie di coppia tutte cose che possono aiutare perché attenzione c'è un tentativo di scappare dall'altra parte se non sei fortemente motivato a stare insieme e quindi da una parte ci sono le donne che stanno diciamo così in un frullatore sono vengono frullate dalla dalla difficile percorso del tumore di stare assieme con la famiglia cercare di tutelare i figli tutelarli dalla propria malattia perché non ne subiscono troppa influenza insomma tutto questo ha bisogno di essere un pochino più conosciuto perché dalla conoscenza derivano gli strumenti per affrontarlo grazie allora la dottoressa Marzia Salgarello ricordo l'appuntamento il 15 ottobre all'hotel plaza a Roma vogliamo però dare anche qualche sito di riferimento qualche modo per restare in contatto chi vuole saperne di più chi viceversa si trova in una condizione che vuole rivolgersi a voi allora innanzitutto il sito di Donna per Donna possiamo anche guardare dottoressa in quella camera sì prima di tutto il sito Donna per Donna www.donnaperdonna.it qui ci sono le brochure che riguardano appunto i progetti di questi cinque anni una volta è la radioterapia una volta come viene fatta la ricostruzione e quest'anno appunto la nuova me e poi c'è ovviamente tutte le breast unit hanno modo di avere un accesso personalizzato e poi c'è il nostro sito Beautiful After Breast Cancer Italia Onlus www e quindi andate a prendere le informazioni e contattateci grazie ancora dottoressa grazie a voi che ci avete seguito torniamo tra un attimo in radio